Il battesimo di fuoco di Raffaele Biancolino ci sarà ufficialmente domenica. Mai nelle sue precedenti avventure sulla panchina della prima squadra ha esordito davanti al pubblico di casa che nella sua lunga carriera da calciatore lo ha osannato ed applaudito. La speranza è che possa rifarlo anche contro il Foggia in una sfida che si attende complicata ma anche affascinante. Bisognerà capire quali saranno le scelte del pitone a partire dagli elementi della primavera che potrebbero essere confermati o addirittura aumentare. Nessun dubbio sul modulo che sarà nuovamente un 4-3-1-2. Gianna Rilli tra i pali in difesa, Cancellotti e Frascatore sugli esterni, Centrale, Rigione e Derrici. A centrocampo c'è qualche ballottaggio in più. Mutandà potrebbe avere una nuova chance, Armellino potrebbe prendersi la regia, in alternativa resta comunque Luca Palmiero, Sonas a completare i tre. In avanti il tridente dovrebbe essere formato da Dausilio, Gori e Redan ma attenzione alle sorprese. Campanile potrebbe insidiare il posto ai colleghi al pari del giovanissimo Di Michele che tanto bene ha fatto il ritiro. La verità arriverà anche solo dalla rifinitura di domani quando Biancolino potrà avere il quadro completo dei recuperi e degli arruolabili. Occhi come sempre puntati anche su Chicco Patierno che sta fremendo per rientrare. Lo farà solo al top della forma.